andiamo ad incontrare il teatro accademia di pesaro che quest'anno ci farà morire da ridere con con ulisseide ovvero una parodia del viaggio di ulisse con tutti i suoi incontri però questa volta vista con gli occhi festosi di un di un conterraneo pesarese quindi ci saranno moltissime battute in dialetto pesarese personaggi tanti siamo 19 in scena risate assicurate e poi portateci i ragazzi che così ripassano l'odissea e l'epica senza annoiarsi ma anche divertendosi grazie di essere ospiti ancora una volta del bcc arena